Come simbolo della continuità amministrativa alla guida della massima istituzione regionale, una targa d'argento con incisi i nomi dei 18 presidenti che dal 1970 a oggi si sono succeduti alla guida della regione Abruzzo. È questo il simbolo che il presidente vicario della regione Giovanni Lolli ha consegnato nelle mani di Marco Marsilio nella giornata che sancisce l'insediamento ufficiale del senatore di Fratelli d'Italia alla guida della regione dopo il voto del 10 febbraio. L'Abruzzo è una regione piccola ma c'è molto da lavorare. I tanti problemi assorbono l'intera giornata. Occorre saper tenere d'occhio la prospettiva di governo per non lasciare indietro le persone, le imprese e i lavoratori. Così ha detto un emozionato e teso Giovanni Lolli a Marsilio sottolineando l'arretratezza infrastrutturale dell'Abruzzo. Arretratezza che rischia di penalizzare la qualità dell'apparato industriale e della struttura agricola della regione paragonabili invece al territorio del centro nord. Sì, beh, insomma, è la prassi e ovviamente sempre un po' emozionante per uno come me almeno che in questi anni, questi cinque anni, ci ha messo proprio il cuore, oltre che tutto il proprio impegno e le proprie limitate capacità. Io e Marco Marsilio ci conosciamo da tempo, quindi non siamo sul piano formale, ecco, tra di noi. Io ho fatto ovviamente i miei auguri, ho cercato di trasmettere il fatto che la regione Abruzzo, che è una piccola regione, in realtà è molto complicata. Pensate che io l'ultimo giorno in cui sono stato effettivamente in attività, cioè il sabato, sabato prima della domenica in cui si è votato, io l'ultima cosa che ho fatto è stato incontrare i lavoratori della ICO, della ex Kimberly. Al primo posto nell'agenda politica futura per Marsilio c'è la ricostruzione, come ha sottolineato questa mattina. Marsilio ha accolto l'esortazione di Lolli, sento il peso della responsabilità e condivido l'appello di Giovanni, la sua risposta amichevola al compagno di lavoro in Parlamento negli anni passati. L'obiettivo della squadra di governo dovrà essere il benessere dei cittadini, infine l'appello alle opposizioni a lavorare per il bene della regione. Dopo il momento formale di questo passaggio, che cosa l'aspetta? Un duro lavoro. Adesso voglio approfondire subito la questione della ricostruzione, farò inevitabilmente nelle prime ore, nei primissimi giorni, una ricognizione con tutti gli uffici, insomma quello che è di prassi si deve svolgere perché bisogna prendere contatto con tutta l'amministrazione, avere report da ogni settore, da ogni dipartimento sulle situazioni, magari le principali emergenze da affrontare, però se c'è un tema che voglio affrontare con un certo vigore è questo della ricostruzione. Ci sono tante emergenze, se rispondo lavoro qualcuno mi interroga sulla sanità, sul riordino della rete sanitaria, insomma ce ne sono tante di emergenze, cercheremo di affrontarle tutte con la giusta attenzione.